Domenico di Dato su Facebook. 2 febbraio 2020 alle ore 10.16. Come avevo anticipato l'altro ieri, il capo delle operazioni coperte della CIA era sull'aereo spia abbattuto in Afghanistan, secondo agenzie di stampa russe e iraniane. L'aereo abbattuto aveva a bordo Michael D'Andrea, che si era infiltrato come Ayatollah Talebano ed era responsabile dell'uccisione del generale Soleimani.